Benissimo benvenuti, eccoci al riepilogo della lezione o incontro che vi ho fatto mercoledì scorso vi ho fatto sostanzialmente tre script e adesso li vediamo uno appresso all'altro il primo script, il più semplice, è uno script di poche righe, in realtà praticamente una riga sola e che viene costruito a partire da un, dunque costruiamo un tappeto elastico il tappeto elastico è qualche cosa che quando ci saldiamo sopra ci spinge e ci fa rimbalzare verso l'alto quindi noi costruiamo un cubo, lo allarghiamo un pochino lo facciamo così, quindi questo sarà quello che diventerà il nostro tappeto elastico a questo punto prendiamo il nostro script, qui tappeto elastico trampolino, questo facciamo tasto destro, modifica del nostro tappeto elastico andiamo nell'ultimo contenuto, ci spostiamo lo script ed ecco che abbiamo il tappeto elastico in funzione lo script è una cosa molto semplice, è semplicemente un push questo qui pusha tutte le volte che collide con qualche cosa a quella cosa che ha colliso dà una spinta di 00500 verso l'alto lo vediamo in funzione, se funziona semplicemente andandoci sopra vedete che vengo, ottengo praticamente questo effetto quindi se rimango fermo proprio sopra ok, qui mi dà praticamente una spinta ok, per avere l'effetto tappeto elastico più convincente potrei forse allargarlo un pochino in modo tale da, anche se rimbalzo ecco ecco vedete che continua a rimbalzare ora quello che abbiamo visto brevemente è anche la modifica di questo script nel senso che se noi adesso magari cerchiamo di uscire ecco, ci siamo tolti dal tappeto elastico dunque per fare in modo tale che si rimbalzi in un modo un po' più dolce si può diminuire la potenza qui è la spinta la push object 00500 da una spinta verso l'alto la Z se invece 500 metto 100 che è molto basso in pratica il tappeto darà una spinta di 100 ma si vedrà pochissimo vedete che è come se muovessi su un tappeto elastico insomma che fa un po' di stranezze questo script potrebbe essere l'ideale per fare dei Luna Park o comunque delle cose un po' carine un po' strane e questa diciamo è la prima cosa che abbiamo visto durante la volta scorsa poi un'altra cosa che abbiamo visto anzi in realtà a dire il vero subito prima abbiamo visto un giver allora un giver che cos'è? è un oggetto, è una scatola quindi facciamo build prendiamo adesso io lo faccio dentro una scatola come al solito e qui ci metto lo script di giver che vi verrà dato quindi give all si chiama quindi ci mettiamo dentro il nostro giver giver vuol dire che è un datore cioè un consegnatore di cose di materiale mettiamo lo script give all e vedete che adesso qui è scritto il nome con cui è noto diciamo il nome di questo oggetto quindi se noi qui gli diciamo un altro nome ad esempio gli diciamo clicca per note card lezione ok? e poi a quel punto lì dobbiamo evidentemente fare il reset dello script questo qui è lo script è molto semplice e a questo punto scusate che ripristina reset allora facendo ripristina dell'oggetto vedete che mette il nome dell'oggetto sopra se ripristina da lì dentro vi viene scomodo potete sempre selezionare l'oggetto e fare ripristina da strumenti e poi qui abbiamo la possibilità di fare reimposta gli script e qui fa il reset dello script una cosa che io insegno sempre a fare il reset dello script ovviamente adesso se io clicco non c'è niente da dare se non lo script quindi devo mettere un contenuto per mettere un contenuto anche a lezione ho fatto l'ennesima spiegazione di come si fa a fare una nuova nota nota note card biglietto facciamo nuova nota e nella nota gli mettiamo notarella da consegnare agli studenti qui possiamo scrivere quello che vogliamo non è proprio un word processor però ci possono stare tantissime informazioni per fare questo questo eccetera si possono mettere anche tante informazioni come dei link dei altri oggetti insomma è potentissimo per consegnare degli oggetti quando fate la note card accertatevi che la note card quindi la troviamo qua sugli elementi recenti sugli elementi recenti andiamo a vedere ecco questa nota che era questa ricordiamoci di cambiare il nome alla note card quindi gli mettiamo materiale lezione ok e accertiamoci che sia full permission cioè che il prossimo proprietario possa modificare copiare e rivendere questo è importante cioè in realtà è importante fondamentalmente la copia ed eventualmente la rivenditura se volete che non possa modificare la note card non dovete mettere la spunta qua quindi prendiamo questo materiale di azione e lo mettiamo nel contenuto insieme al give all a questo punto quello che succede è che chiunque clicchi qui quindi qui vedete gli viene consegnato una cartella di nome ecco qui vedete che c'è clicca per note card lezione probabilmente invece che clicca bastava mettere note card lezione e qui negli elementi recenti avremo una cartella in più questa quindi clicca per note card lezione con dentro il contenuto la cosa che viene la note card che veniva data si vedete che qui non ha dato la note card perché la note card l'ho messa dentro ma quando si cambia il contenuto questo tipo di giver bisogna fare sempre il reset dello script quindi bisogna fare ripristina perché lui si legge l'elenco delle cose da dare al momento in cui si fa ripristina a questo punto se io lo riclicco e andiamo a vedere il clicca per note card lezione vedete che c'è anche veramente il materiale della lezione quindi importante l'ordine in cui fate questa cosa quindi il giver questo qui importantissimo lo vedrete allegato alla lezione e vediamo invece la calcolatrice abbiamo fatto anche una calcolatrice calculator edmondo lo chiamiamo calculator edmondo vedete che il rezzato e questo oggettone qua questo oggettone che si può poi personalizzare come volete vedete che è composto da una serie di oggetti quindi è composto fondamentalmente da una plancia da dei tastini colorati cioè anzi scusate su cui sono state messe dei numeri e poi da una etichetta qua dove presenta il numero calcolato quindi qui facendo 4 qui c'è la cancellazione qui si può fare 45 mila scusate forse non devo camminarci sopra e poi magari posso anche metterla in un modo un po' più umano ok quindi facciamo c facciamo 4 5 0 e bisogna fare attenzione quindi io 4 cancello 4 5 0 0 0 perché io ho imprudenza che con il doppio clic tenta di fare il teletrasporto facciamo diviso 5 uguale vedete che fa il calcolo ok poi posso fare anche diviso 3 uguale diviso 55 devo togliere il doppio clic decisamente ok e quindi questa è diciamo la calcolatrice di cui lo script fondamentalmente lo trovate qua dentro c'è un nuovo script ed è questo script che legge i tasti premuti praticamente quando si premia qualcosa cerca di trovare il numero il nome del tasto che è stato premuto il numero se un numero lo accumula all'interno e se c'è un'operazione cerca di eseguirla anche qua allora questa calcolatrice la troverete nel mio negozio con lo script e gli script in ogni caso li troverete nel in pasta e bin legati al video una cosa volevo dire se per caso voi mettete le texture non c'è più bisogno di mettere i numeri sopra fatti con questi floating test dovete modificare lo script in modo tale che alla partenza quindi qui alla partenza vedete che qui fa queste istruzioni che fa che setta il testo sul prim se non volete l'intestazione numerica basta che gli mettiate apostrofi spazio apostrofi e a questo punto lui toglie tutta la la indicazione sopra cosa che abbiamo visto che se per caso texturizzate dà solo fastidio allora con questo direi che è più o meno quello che abbiamo visto la settimana scorsa quindi ci rivediamo a mercoledì prossimo che poi sarebbe domani buona serata e buon Edmondo